Da Prato Vecchio Stia fino ad Alberese. È proprio dal comune dell'Alto Casentino che i moderni transumanti sono partiti per raggiungere la Maremma. 270 chilometri da percorrere per portare a destinazione 13 animali poco avvezzi alla presenza dell'uomo. È la tredicesima edizione di Da Appennino a Maremma che dal 2009 questo gruppo ha messo in piedi più o meno tutti gli anni da punti diversi della Toscana e quindi per arrivare prevalentemente nella Maremma Toscana qualche volta nella Maremma Vaziale. Il percorso sono circa 270 chilometri, la prima tappa è a Reggello e poi Figline Valdarno, andiamo verso Brolio per arrivare dopo due giorni Buon Convento, Cinigiano, Istia d'Ombrone e poi Alberese. Lo facciamo con il nostro gruppo di puledri, sono 13 puledri con una mula che seguono la madrina che è una mula e noi serviamo per provare a vedere se qualcuno va per conto suo. Riportarlo nel branco. Professionisti, impiegati, imprenditori che lasciano fabbriche ed uffici per vivere emozioni antiche, mossi dalla passione per il mondo equestre e motivati dalla volontà di salvaguardare una delle tradizioni più antiche della regione. Cerchiamo di ripercorrere più fidelmente i percorsi della transumanza e di fare anche nell'abbigliamento, nella cucina, prodotti tipici, vecchie cucine della Maremmane, la cucina povera che facevano i nostri vecchi, i nostri nonni praticamente. Grazie. Grazie. Grazie.